...opere di artistico, valore artistico... Questa giornata delle Marche è dedicata ai marchigiani e alla nostra comunità che credo che in questo momento anche difficile, con tutti i condizionamenti, con tutte le difficoltà devono mantenere forte e alta quella che è la bandiera dei nostri valori di una tradizione autentica, di una tradizione forte di una tradizione piena di tanti straordinari esempi che nel mondo ci caratterizzano Sì, sono riconoscimenti importanti a chi si è contraddistinto, a chi è stato in prima linea a chi ha pensato non solo al bene di se stesso ma al bene di dolce ...quido, benvenuto! Grazie!